Poche file all'Inps, alcuni sportelli CAF chiusi di martedì, nessuna ressa agli uffici postali, anzi quasi una calma piatta. Il primo giorno utile per la presentazione del reddito di cittadinanza si è consumato a Salerno senza particolari problemi per gli uffici che si erano preparati, magari, ad un altro tipo di affluenza. Il tutto nonostante in campania era previsto il record di richieste di sussidio. Un leggero incremento di affluenza si è registrato soltanto nelle primissime ore del mattino. Ne abbiamo parlato con Agostino De Leo, direttore provinciale del patronato Enasc di Salerno, che punta l'indice anche su qualche intoppo all'Inps per quanto riguarda la pensione di cittadinanza. L'Inps non è ancora pronta per quanto riguarda la domanda di pensione di cittadinanza, che doveva comunque partire da oggi. Non c'è ancora né il codice per poter inviare le domande né il canale aperto per poterle trasmettere. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, praticamente l'Inps inizierà ad elaborare le domande dopo il 19 di aprile. Quindi adesso si fa soltanto raccolta la cooperazione applicativa, quindi il rilascio di eventuali protocolli ricevute avverrà soltanto in una fase successiva. Si è dato informazione in merito agli aventi diritto, cioè se ci sono persone che magari hanno avuto l'acquisto di una voettura o un componente del nucleo familiare che ha reso di missioni volontari, si è spiegato che non hanno diritto all'accesso al reddito di cittadinanza. Al momento ci siamo limitati a quello, pure perché la situazione è ancora molto fluida. Purtroppo non c'è ancora un decreto approvato in via definitiva alla Camera. Quindi hanno aperto un canale, ma non è ancora, diciamo così, tutto operativo. Sarà operativo comunque sicuramente dopo l'approvazione del decreto anche alla Camera. Alcuni richiedenti hanno posto anche domande per cercare di eludere eventuali paletti e su quello siamo stati molto fermi nel dire che comunque le DSU saranno controllate dalla Guardia di Finanza. Quindi è meglio non provare a fare, si può soltanto incorrere nel rischio di blocco della domanda stessa.